Era mezzanotte quindi buio pesto senza la luna ancora doveva sorgere e invece a un certo punto è venuto un ragazzo con una torcia in testa e ho iniziato a parlarci, era francese poi la casualità della stessa città dove io ho vissuto e studiato durante il periodo dell'Eralmus parliamo così e ho detto adesso te dove vai qua? A dormire lassù, guardo come lassù eh ma quella è un'amaca, no Un incontro del tutto casuale dunque, quello tra il fotografo amatoriale anconetano Matteo Naspetti e l'equilibrista francese Oelle Hug ma che valso entrambi lo scatto della vita che da ieri sta facendo il giro del web Stiamo parlando della foto che ritrae Oelle mentre dorme nella sua amaca sospesa per un'estremità allo scoglio della vela nella baia di Porto Novo Una notte è passata a meditare e a scrutare le stelle mentre Matteo immortalava il trascorrere delle ore con la sua macchina fotografica fino allo scatto finale all'alba Ma l'avventura non è finita lì e se l'incontro tra i due è stato neaspettato ancora di più lo è stato il successo riscosso in seguito dalle foto che in poche ore sono rimbalzate dai social fino alle testate nazionali suscitando la curiosità e l'attenzione di moltissime persone Guarda una sorpresa in mane tutto ieri che ho avuto centinaia di richieste di contatti su Facebook amici che mi chiamano, testate giornalistiche, televisioni, radio, giornali sia locali che nazionali un successone ecco per me che sono un fotografo veramente amatoriale poi che faccio foto da pochi mesi è stata una bella fortuna Lui come ha vissuto la cosa? Siete rimasti in contatti magari anche tramite Facebook anche per scambiarvi le foto? Assolutamente ci siamo sentiti tramite Facebook, tramite mail così e siamo rimasti che le prossime avventure mi chiamerà per fargli il fotografo ufficiale visto il successo che c'è stato Quindi continuerai a seguirlo? Assolutamente